Consumare questa bevanda è liminare in grasso e mettere peso realmente. Per mettere peso senza esercitare o dieta come un matto, consumare questa bevanda è si mette peso realmente in pochi giorni. Questa bevanda incredibile non solo ti porta risultati rapidi, ma anche efficace e duraturo e senza privati degli alimenti preferiti che consumi ogni giorno. Questo funziona perché quando si consuma questa bevanda rendere il metabolismo più veloce e rendere il vostro corpo bruciare i grassi alla massima velocità. Infatti, questa bevanda vi uterrà a bruciare i grassi otto volte più velocemente di alcuni altri metodi. Il suo ingrediente principale è il lime o il limone, l'agrume che fornisce potenti proprietà di bruciare i grassi insieme a molti benefici per la salute. In altre parole, si mette peso mentre aumentano il sistema immunitario e la salute generale. Si dovrebbe anche sapere che avere un sopra peso provoca molte gravi malattie di salute come attacco di cuore, ictus e aumenta i livelli di zucchero nel vostro corpo. Quindi la cosa importante è mantenere il vostro peso in equilibrio. Ecco perché ti fornisco questa bevanda a taglierina grassa. Il consumo di questa bevanda in soli 14 giorni, durante i quali si mette peso naturalmente e senza effetti collaterali. Giusto tutto quello che devi fare è includere questa bevanda nella tua dieta. Non ha niente da mettere tranne quei pesi in eccesso. Quindi perché non bere questa bevanda oggi? Ecco come fare questa bevanda incredibile. Giorno 1 avrete bisogno di un lime e un bicchiere d'acqua. È inutile possibile utilizzare il limone se non si dispone di lime. Io uso lime perché è disponibile nella mia cucina. Spremere il lime in un bicchiere d'acqua e bere la miscela tre volte al giorno con i basti regolari. Giorno 2, questa volta avrete bisogno di due lime e due bicchieri d'acqua, circa 500 litri. Spremere due lime in due bicchiere d'acqua e mescolare bene con un cucchiaio. Puoi bere un bicchiere della bevanda al mattino a stomaco vuoto e l'altro bicchiere poco prima cena. Giorno 3, ripetere la stessa cosa del primo giorno. Avere i vostri tre pasti regolari insieme a tre bicchieri di acqua di lime. Giorno 4, ripetere la stessa cosa del secondo giorno. Bere un'acqua di lime di vetro prima di colazione e ladrò prima di avere la cena. Giorno 5, prima di colazione è necessario preverare un lime e un bicchiere d'acqua. Quindi spremere il lime in un bicchiere d'acqua per questa miscela e poi si può mangiare la colazione. Per il pranzo ti consigliamo di mangiare vetture verdi. Le lenticchie è bene ma stai lontano dal riso o batate. Per cena si può avere una ciotola di insalata di vetture e un po' di frutta. E finisci questa giornata con un altro bicchiere di acqua di lime. Giorno 6, ripetere la stessa cosa del secondo giorno. Giorno 7, ripetere l'intero pieno di nuovo. Facendo questo metodo si noterà miglioramenti significativi del tuo peso entro una settimana o due. Continuare con il piano per tutto il tempo che vuoi ma fare cause dopo un paio di settimane. E alla fine se ti piace questo video si prega di donare un mi piace. Non dimenticare di condividerlo sulla tua bacina personale perché probabilmente non lo troverai più. Iscriviti al canale per ottenere altri video utili.